le terme degli antichi romani tra le strutture più caratteristiche della cultura e dello svago dei romani c'erano certamente anche le terme qui vediamo due romani fare conoscenza in attesa di poter entrare negli ambienti termali per rilassarsi il percorso dei romani all'interno delle terme iniziava con l'apoditerium che era lo spogliatoio delle terme poi si poteva accedere alla vasca fredda che qui è possibile vedere il frigidarium dopo il frigidarium si poteva accedere al tepidarium un ambiente nel quale le temperature erano più calde rispetto agli altri ambienti poi i romani si recavano nel caldarium che era un ambiente caldo ed era l'ambiente nel quale i romani si facevano rilassante bagno caldo gli ambienti erano riscaldati dai praefurnia i forni che grazie alla combustione del legno riuscivano a riscaldare tutte le zone termali le terme erano dotate anche di zone riservate alle donne e qui è possibile vedere il caldarium femminile nei pressi degli ambienti termali si trovava anche una palestra nella quale si poteva svolgere attività fisica e qui si poteva svolgere attività fisica